Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV L'informazione locale Scontro tra due moto sulla statale 16 Traffano e Pesero I due centauri trasportati in elicottero all'ospedale regionale di Torrente Elezioni regionali ad Ancona all'Udc Popolari Marche A sostegno del candidato di centrodestra Acquaroli Allerta meteo in tutta la regione Previsti temporali e localmente anche forti Grandinate e possibili trombe d'aria Doppia iniziativa a Monbaroccio con la festa degli alberi E la lavanda in fiore tra i primi eventi nella provincia dopo il lockdown Un cane legato alla catena cieco e sordo è stato salvato dall'OIPA di Ancona Il piccolo animale adesso cerca cane Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Apriamo con la cronaca Sciocca Iesi dove una donna è stata sgozzata e uccisa in casa In gravi condizioni anche il marito I carabinieri hanno fermato un 25enne dello stesso quartiere che era nascosto dietro una seppe I carabinieri lo hanno trovato sporco di sangue E' stata uccisa nella sua abitazione Fiorella Scarponi 69 anni sgozzata con un fendente all'alba in via Saveria Iesi in provincia di Ancona L'omicidio è avvenuto alle 5.30 Mentre era insieme al marito Italo Giuliani 74 anni sopravvissuto ma in gravi condizioni I carabinieri chiamati dai vicini di casa che avevano sentito delle urla hanno fermato Michael Santarelli 25 anni che era nascosto dietro alla sepe di un giardino con gli abiti sporchi di sangue e i tagli alle mani Il giovane che è sospettato di avere aggredito la coppia di anziani abita con la madre nello stesso quartiere ed era già attenzionato dalle forze dell'ordine Stiamo verificando anche eventuali problemi psichiatrici ha detto ai giornalisti il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona Cristian Carrozza Sembra che già in passato il ragazzo avesse tentato di entrare in altre abitazioni in ogni caso non ha cercato di rubare nulla per questo il comandante ha parlato di un'aggressione fine a se stessa L'arma del delitto è probabilmente un pezzo di vetro della porta finestra che il 25enne aveva sfondato e con il quale ha colpito la vittima alla gola L'anziano invece, molto conosciuto a Iesi, pensionato e tuttora presidente di una polisportiva è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso L'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è riuscito a raccontare quanto accaduto Marito e moglie avrebbero sentito i rumori e si sarebbero alzati a vedere cosa stava succedendo La procura di Ancona ha deciso di procedere per omicidio volontario e tentato omicidio Dopo le cure del pronto soccorso, il 25enne rimarrà in stato di arresto nel reparto di psichiatria all'ospedale di Iesi, ma piantonato E c'è stato un incidente stradale, un grave incidente stradale oggi dopo un mezzogiorno sulla statale 16 Adriatica Traffano e Pesaro coinvolti due motociclisti, entrambi sono finiti all'ospedale trasportati dall'eliambulanza Traffico in tilt intorno alle 12 di oggi per un grave incidente lungo la statale Adriatica Nord poco prima di Fosso 6 ore, all'altezza dell'ex Pellicceria Gentili Lo scontro è avvenuto tra due moto, la prima condotta da un 24enne pesarese che dopo aver effettuato rifornimento nel distributore presente nella statale nell'intento di mettersi nella carreggiata si è imbattuto nello scontro di un altro scooter di un 51enne fanese che stava percorrendo la statale Pesaro Fano L'impatto con il mezzo è stato violento tant'è che lo scooter è finito contro una lancia Y parcheggiata sul lato opposto della carreggiata Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza che ha trasportato il fanese al torrette di Ancona Non riuscendo a trovare rapidamente spazio i sanitari sono stati costretti a calarsi con la fune Meno gravi invece le condizioni del 24enne pesarese trasportato comunque anche lui al torrette da un'ambulanza La strada è stata chiusa per circa un'ora con il traffico che è stato deviato sulle vie secondarie Sul posto tre pattuglie della polizia locale un'ambulanza del 118 e gli uomini dell'esercito che hanno provveduto a regolare il traffico La Guardia di Finanza di Osimo ha individuato un riciclaggio di 10 milioni e mezzo di euro grazie all'operazione internazionale Cento Carati è stata denunciata una donna di 70 anni di Loreto compagna di Maurizio Sacchi il titolare del DPI società nel settore della promozione della vendita di diamanti è arrestato oggi per autoriciclaggio Si tratta di denaro che secondo gli investigatori sarebbe provento delle attività illecite di Sacchi nella commercializzazione di diamanti beni fatti rientrare in Italia e ripuliti con sofisticate operazioni finanziarie in Nuova Zelanda, Stati Uniti, Londra e Lussemburgo Circa 2 milioni e mezzo di euro sono stati impiegati dall'imprenditore di 65 anni per l'acquisto di una villa con piscina a Porto Recanati in provincia di Macerata che è stata poi sequestrata altri 7 milioni di euro sono stati utilizzati da Sacchi per regolarizzare la sua posizione fiscale e adesso invece parliamo di una iniziativa che si sarebbe dovuta tenere all'aperto all'arena BCC di Fano dove l'area Vasta 1 aveva organizzato un evento per ringraziare tutti i benefattori che durante l'emergenza coronavirus hanno donato spontaneamente appunto del denaro e non solo per fronteggiare questa appunto emergenza in provincia di Pesurbino solo che il maltempo ha rovinato un po' i piani e dunque dall'aperto dall'arena BCC si sono dovuti trasferire all'interno e noi avevamo in programma un collegamento un collegamento che evidentemente non è stato possibile però siamo in grado di farvi ascoltare alcune interviste realizzate con il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli con Magnoni il direttore dell'area Vasta 1 e con la dottoressa Storti che è la responsabile regionale appunto dell'area Vasta sentiamo è una giornata a cui tenevo tantissimo perché oltre a ringraziare come ho sempre fatto tutti i nostri dipendenti tenevo a ringraziare quelli che in qualche modo ci hanno sostenuto sia acquistando direttamente materiali sia materiali e attrezzature sia donandoli veramente somme che noi abbiamo utilizzato tengo a pregirarlo per l'emergenza noi abbiamo utilizzato quei finanziamenti per sostituire apparecchiature obsolete e quant'altro abbiamo utilizzato per comprare strutture che servivano in quel momento ma quante sono state queste persone? le donazioni sono state 650 mila euro le donazioni abbiamo fatto 270 attestati ok di conseguenza molti sono associazioni quindi probabilmente premiamo solo associazioni ma dentro hanno parecchie persone quindi ringrazio colorosamente perché lo tsunami non ci ha travolto questo non ci ha travolto e anche per merito delle persone che hanno messo mano al portafoglio e ci hanno dato una grande mano noi abbiamo sentito la vicinanza di tutta la popolazione la vicinanza di tutti i donatori che ci hanno fatto rimboccare le maniche anche nei momenti in cui eravamo veramente alla frutta e quindi siamo in questo momento felici di poter ringraziare tutti quanti coloro che ci hanno sostenuto quali sono stati questi momenti più difficili? suppongo i primi quando ancora non si sapeva bene di che cosa si trattasse sicuramente sono stati i primi quando ci troviamo di fronte ad un virus sconosciuto e quindi i nostri medici, i nostri infermieri si sono dovuti adeguare perché giorno dopo giorno il virus cambiava nel senso che a volte era più aggressivo e non ce lo spiegavamo perché altre volte invece dava delle sintomatologie molto banali non capivamo perché in quel caso si presentava in questo modo e poi i momenti difficili sono stati quando i numeri crescevano verticosamente noi ci si raddoppiava i numeri dei pazienti giorno dopo giorni e non sapevamo quello che avremmo vissuto il giorno successivo fortunatamente arrivavano attrezzature, ventilatori abbiamo improvvisato sale di edegenza sale di operatorie trasformate in reparti di edegenza e arrivavano le tecnologie al momento giusto devo dire che ci sono stati anche dei momenti in cui abbiamo temuto che non arrivassero in tempo ma fortunatamente ce l'abbiamo fatta a nessuna differenza di tante altre situazioni abbiamo negato il ventilatore quindi non abbiamo dovuto scegliere tra chi si e tra chi no Presidente, tanta solidarietà in questa emergenza sanitaria oggi ringraziamento a tutti coloro che hanno dato una grande mano Sì, la voglia di ringraziare uno a uno tutti quelli che hanno dato un contributo e sono veramente tanti è stato uno degli elementi che ha sostenuto, accompagnato un momento così duro, così difficile ed è giusto nel momento in cui noi possiamo guardare con serenità insomma questa fase che ha concluso la parte più critica con pochissimi casi poter dedicare questo momento a tutti loro che è un po' dedicato alla nostra comunità perché la solidarietà, la vicinanza rappresenta anche un carattere forte di una comunità che sa ben reagire anche in momenti più difficili Guarda il futuro con positività quindi? Il futuro va guardato con attenzione perché sappiamo molto bene che questi fenomeni sono a rischio anche di recidività sappiamo che in giro per il mondo in questo momento in molti paesi il virus continua ad essere aggressivo quindi bisogna continuare ad essere attenti però certo nelle Marche possiamo vivere questo momento con la giusta attenzione e la giusta serenità E adesso parliamo delle elezioni regionali perché questa mattina ad Ancona si è svolta una conferenza dell'Udc Popolari Marche nella quale hanno dato il loro sostegno al candidato del centrodestra Acquaroli Si è svolta ad Ancona una conferenza indetta dall'Udc Popolari Marche per l'inizio della campagna elettorale del partito a sostegno del candidato alle regionali per il centrodestra Francesco Acquaroli presente all'evento il senatore Antonio Saccone coordinatore regionale dell'Udc che ha manifestato un appoggio del candidato di centrodestra di cui il partito è parte integrante a livello nazionale Marconi, capogruppo uscente dell'Udc in consiglio regionale ha rimarcato la necessità di un nuovo e giovane slancio per ripartire dopo anni, dice, di sostanziale immobilismo qualità umane e politiche quelle di Acquaroli riconosciute anche dall'ex presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Vittoriano Solazzi che ha sottolineato come la politica a tutti i livelli ha bisogno di valori e idee rintracciabili nel progetto Udc Popolari Marche Il candidato Acquaroli dopo l'investitura ufficiale si è mostrato orgoglioso e soddisfatto dell'appoggio dei partiti di coalizione Secondo il mio punto di vista l'Udc e la presenza dell'Udc nella nostra coalizione è un valore aggiunto ci apre un mondo ci apre una realtà ci ricongiunge con dei valori che sono fondamentali per garantire un'alternativa al governo della regione Marche il lavoro, la famiglia, l'impresa tutti i punti all'ordine del giorno del nostro programma all'ordine del giorno dei cittadini marchiciani e dell'emergenza che coinvolge nella nostra regione bisogna invertire questa tendenza e bisogna farlo con progetti chiari concreti e facilmente fruibili da tutti aprendosi e cercando di condividere questa sfida e cercando di condividere la ripresa perché la verità è che c'è anche da tante parti sociali e parti economiche del nostro territorio una volontà di partecipare che evidentemente non è stata appieno colta da chi ha amministrato finora questa regione sta amministrando questa regione all'evento hanno preso parte diversi esponenti politici marchigiani a sostegno di Acquaroli tra cui anche il commissario provinciale Udc Davide Del Vecchio è una novità politica nel panorama regionale perché fino a poco tempo fa questo partito di centro era lato con il centro-sinistra quindi ci saranno due sfidanti in queste elezioni regionali una coalizione di sinistra che non ha più la parte centrale e invece si è andato a riformare l'intero centro-destra quindi partendo dal centro fino alla destra questo credo che sia una grande novità perché nella regione Marche sono andati quasi sempre divisi queste coalizioni ecco l'aver riunito tutti è già un primo passo importante per cambiare le Marche perché l'obiettivo vero è andare a cambiare le Marche rispetto a tutto quello che è sotto gli occhi di tutti non funziona Durante la conferenza sono stati presentati anche il simbolo e lo spot elettorale sottolineando le esigenze del territorio nella lista è presente anche l'imprenditrice fanese Francesca Cecchini dopo le comunali scorse è stata proprio la tematica di Davide del Vecchio che mi ha seguito perché poi lui è stato escluso dalla coalizione cosa che a me è pesata tanto e ho ricevuto la sua chiamata per questa candidatura e direi che non ci ho pensato tanto a dargli la risposta perché comunque sia io guardo molto le persone più che prima l'uomo e poi il politico e adesso invece parliamo dei saldi nelle Marche inizieranno ufficialmente il primo di agosto ma anche in città a Fano sono iniziate le promozioni che serviranno almeno nelle intenzioni per far ripartire un po' l'economia il circuito economico di Fano cerca di tornare a respirare attraverso le promozioni che campeggiano su alcune vetrine della città in particolare delle grandi catene a fine giugno infatti il presidente della regione Luca Ceriscioli ha fermato un decreto con il quale si dà la possibilità agli esercenti di effettuare le vendite promozionali in deroga la legge nei 30 giorni antecedenti saldi di fine stagione che quest'anno inizieranno dal primo agosto è una vendita promozionale dove abbiamo tutto a 6 euro 5 euro 4 euro sono diverse classi merceologiche i saldi veri inizieranno il primo di agosto quindi ancora qualche settimana qualche settimana di attesa però possiamo già iniziare a gustare quello che c'è quali sono i colori di quest'estate quest'anno c'è un ritorno agli anni 90 quindi tutto molto pop colorato il fluo dai verdi e giallo colori molto vivaci estivi anche perché bisogna rallegrare questa situazione un po' particolare che stiamo vivendo dopo il lockdown la riapertura dei negozi non ha coinciso con la ripartenza economica infatti non tutti hanno colto l'opportunità messa in campo dalla regione con l'obiettivo di fronteggiare la crisi profonda innescata dal covid-19 la ripresa la ripresa è un po' lentina ma soprattutto perché quest'anno non abbiamo turisti stranieri quest'anno abbiamo italiani speriamo di averne un po' di più strada facendo e comunque insomma dai tutto sommato vogliamo essere ottimisti per gli sconti aspetterete agosto oppure inizierete con qualche promozione e allora in questo momento promozioni non ne possiamo fare non abbiamo neanche la merce proprio per poter fare perché gli acquisti sono stati abbastanza oculati non è che abbiamo comprato in eccesso per cui diciamo che giugno e luglio lo faremo normale e poi agosto magari sui prodotti per il sole sulle creme solari acque profumate oppure ecco anche abbiamo dei parei abbiamo degli accessori magari su quello che rimarrà faremo degli sconti però in agosto quando partono le svendite insomma a livello nazionale e adesso andiamo a Monbaroccio sempre nel Pesarese dove due eventi in uno si svolgeranno questo fine settimana sono la festa degli alberi e la lavanda in fiore mercatino di artigianato e prodotti tipici all'interno del bosco del Beato Sante visita ai campi di lavanda e lezioni di educazione ambientale doppio evento a Monbaroccio promosso da Proloco Comune e azienda agricola all'infinito sabato 4 e domenica 5 tornano alla festa degli alberi e lavande in fiore unite in un unico programma patrocinato dalla regione e dalla provincia di Pesare Urbino siamo pronti per il 4 e 5 luglio la festa della lavanda e la festa degli alberi che finalmente si incrociano visto il periodo di lockdown concentriamo i nostri eventi in questo fine settimana siamo i primi a ripartire i primi nella provincia un grazie sentito a tutti i volontari alla Proloco a tutti coloro che hanno collaborato tutto quello che riguarda il contesto del Beato Sante nella sua cultura nella sua natura nel suo percorso religioso e quindi aspettiamo tutte le famiglie e i bambini che ci vorranno venire a trovare in un momento veramente nuovo innovativo e colorato prodotti tipici attività economiche grande collaborazione con gli operatori turistici del territorio nonché dei ristoranti chi verrà in un baroccio potrà assaporare la lavanda all'interno dei nostri ristoranti con prodotti dedicati piatti dedicati nonché con cestini che possono essere poi consumati nel bosco in modo di picnic con prodotti alla lavanda quindi prodotti nuovi che si abbinano a questo evento particolare e colorato la manifestazione a partecipazione gratuita prenderà il via domani alle ore 10 con una santa messa nello spazio aperto del santuario del Beato Sante e una cerimonia di premiazione al presidente onorario della Proloco seguirà l'inaugurazione dell'evento con l'avvio dei mercatini visite guidate e le tante iniziative in programma che troverete anche sul nostro sito occhiallanotizia.it È stato fino all'ultimo un po' indecisa la questione però assieme all'amministrazione comunale alle forze dell'ordine carabinieri polizia locale ufficio tecnico ci siamo visti ne abbiamo parlato abbiamo parlato con la questura con la prefettura e abbiamo deciso di provare a fare questo evento questo evento che è in maniera un po' ridotta piccola ma un evento molto importante per il nostro territorio perché parliamo della natura dell'ambiente poi la bellezza che ci riporta anche San Francesco d'Assisi sulla natura sull'uomo sulla bellezza di stare insieme dell'umiltà anche e proprio per questo abbiamo organizzato la possibilità di mangiare in mezzo al bosco in mezzo alla natura in mezzo al verde abbiamo allestito queste aree picnic ed è fondamentale ed è importante per lo meno per riprovare a stare un po' distanti ma insieme L'evento verrà dedicato a una persona in particolare di chi si tratta? Sì questo con grande emozione dedichiamo che non in tutte le prologo c'è 50 anni di volontariato il nostro presidente onorario Iacucci Varis che festeggia 50 anni all'interno della prologo possiamo definirlo un'icona la vera storia di Monbaroccio e Varis Iacucci E adesso parliamo invece del maltempo e dell'allerta meteo che è stata diramata dalla protezione civile sono previsti in queste ore forti temporali localmente anche intensi con grandinate e possibili trombe d'aria è lo scenario previsto dagli esperti per queste due giornate venerdì e sabato anche il centro europeo Estofex specializzato in previsioni di tempeste e fenomeni violenti ha emanato un importante avviso meteo che riguarda proprio l'area marchigiana e non solo il livello più alto ovvero 2 su una scala di 3 interessa la pianura padana e l'area delle Marche e l'area settentrionale dell'Abruzzo dove si potranno verificare temporali intensi tra il pomeriggio e la sera e adesso vi raccontiamo la storia a lieto fine di Sid un cane che ha 20 anni legato ad una catena cieco e sordo però è stato salvato dall'OIPA di Ancona ora dopo anni di incurio e abbandono questo animale cerca una famiglia lui è Sid un cane di circa 20 anni ormai cieco e sordo che viveva legato a una pesante catena in una casa di campagna iesi i suoi soccorritori invece sono le guardie zoofile dell'OIPA di Ancona che dopo averlo salvato hanno deciso di dargli questo nome lo stesso del bradipo sorridente del film l'era glaciale perché quella è stata la sua espressione quando è stato liberato Sid passava le giornate nella solitudine e nell'incuria in attesa del proprietario morto da tempo lo racconta Rocco Coretti coordinatore regionale delle guardie zoofile lo abbiamo subito ripulito da un'enorme massa di peli pulci e serpaglie che lo intrappolavano e fatto visitare per verificare le sue condizioni di salute i familiari del proprietario scomparso pensavano di potersi prendere cura di lui assicurandogli un pasto quotidiano ritenendo che questo fosse sufficiente a garantirgli una vita dignitosa nei loro confronti è stato subito avviato il procedimento sanzionatorio e le verifiche del caso data la situazione gli agenti hanno deciso di portare via il piccolo Sid che ora si trova in una struttura veterinaria privata le sue condizioni fisiche sembrano stabili il cagnolino è ancora sotto osservazione ma presto potrà uscire dalla clinica l'OIPA di Ancona ha deciso di affrontare tutte le future spese garantendo ogni cura necessaria per regalargli una vita serena Sid però cerca casa il suo cuore grande e forte ha ancora tanto amore da dare è un cagnolino molto dolce ha detto la coordinatrice provinciale Luana Abedetti speriamo che presto possa avere una famiglia chi vuole adottarlo può contattare questo numero e dare così un altro lieto fine alla storia di Sid Siamo onorati di accogliere Sandro Veronesi a Pesero per la sua prima uscita pubblica in un festival dopo l'annuncio della sua vittoria al Premio Strega 2020 con il suo romanzo Il Colibri lo dicono il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini con riferimento alla partecipazione di Veronesi al festival Pop Sofia in programma domenica 5 luglio alle ore 19 in Piazza del Popolo lo scrittore due volte vincitore del Premio Strega sarà intervistato dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli per Pesero sarà un ulteriore segnale di rilancio culturale hanno aggiunto Ricci e Vimini nell'ambito del primo festival italiano dell'era post-Covid con pubblico e ospiti dal vivo e vi ricordiamo che domenica sera qui su Fano TV canale 17 intorno alle ore 21 ci sarà e trasmetteremo in diretta la cerimonia organizzata dal comune di Fano in memoria delle vittime del Covid-19 la città si fermerà per una commemorazione alla Rocca Malatistiana che prevede testimonianze musica e interventi di autorità civili e religiose invece lunedì sera ci sarà una nuova puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri dunque appuntamento anche in questo caso dopo il telegiornale alle ore 21 io mi fermo qui grazie per averci seguito e arrivederci a domani grazie a tutti